Ciao a tutti e benvenuti all'oroscopo di oggi. Siamo lieti di accogliervi in questa sessione di previsioni astrologiche per la giornata. Oggi vi porteremo le ultime notizie astrali e gli influssi planetari che influenzeranno la vostra vita. Sarà un viaggio emozionante attraverso le stelle, quindi preparatevi a scoprire cosa il destino è in serbo per voi oggi. Senza ulteriori indugi, iniziamo questa avventura astrologica insieme. Segno Ariete. Oggi, l'Ariete dovrà affrontare molte difficoltà sul lavoro a causa di voci infondate e pettegolezzi. I concorrenti stanno cercando di danneggiarti diffondendo false voci per creare una cattiva reputazione e influenzare la tua immagine personale. Il punto forte dell'Ariete è la sua forte determinazione e perseveranza, quindi non aver paura di questa situazione difficile, ma proteggi la tua posizione. Martedì, la situazione finanziaria dell'Ariete sembra favorevole. Non sottovalutare i piccoli guadagni, poiché molte piccole cose possono sommarsi a una somma considerevole. Avendo molte opportunità, puoi raccogliere buoni frutti finanziari. Lavoro. Una conversazione con colleghi o parenti può aiutarti a valutare la tua posizione e le sfide attuali. Amore. Sembra che tu e il tuo partner dovreste organizzare un appuntamento romantico per sfogare lo stress dopo una giornata faticosa. Salute. La tua salute sembra un po' compromessa, quindi dovresti trovare un equilibrio tra il lavoro e il riposo. Segno toro. Il toro non sta attraversando un periodo favorevole, quindi le tue azioni basate sulla pianificazione stanno incontrando ostacoli e non stanno procedendo come desideri. Di conseguenza, ti trovi in uno stato di incertezza, non sai se continuare o ritirarti, ma l'idea di abbandonare non ti va a genio e continuare è estremamente difficile. Il toro dovrebbe sforzarsi al massimo, ma il successo o il fallimento dipenderà dalla volontà del destino, quindi cerca di non preoccuparti troppo e di non affaticare la tua mente. In breve, per raggiungere i tuoi obiettivi, devi essere paziente e determinato, senza abbandonare, e supererai ogni sfida. Essendo una persona intelligente, non c'è nulla che non possa essere realizzato. Lavoro. Oltre alle tue responsabilità quotidiane, potresti concentrarti su un compito che consideri importante o urgente. Amore. Dovresti ascoltare di più le preoccupazioni dell'altra metà, non prendere decisioni unilateralmente, altrimenti potrebbero sorgere conflitti a breve o lungo termine. Salute. Per quanto riguarda la tua salute, non ti senti al massimo. Le preoccupazioni riguardo a problemi alle ossa e alle articolazioni stanno causando ansia. Segno gemelli. I gemelli stanno ricevendo il supporto di influenze positive, e la loro carriera sta avanzando costantemente. Non si sentono scoraggiati dalle sfide e dagli ostacoli che si presentano lungo il percorso. Per raggiungere i grandi successi che desiderano, i gemelli dovranno mettere un impegno straordinario. Sognano di essere abbastanza forti da proteggere i loro cari, ma la loro costante occupazione con il lavoro potrebbe minare la loro salute. Questa non è la soluzione migliore quando cercano di aumentare la loro produttività professionale. Lavoro. La carriera sta procedendo bene, e sei un leader capace che affronta le sfide con responsabilità e determinazione. Amore. Ci potrebbero essere alcune contraddizioni nelle tue relazioni sentimentali che ti danno fastidio. Tuttavia, il lavoro occupa gran parte della tua giornata, quindi non ti preoccupi troppo. Finanze. Assicurati di gestire meglio la tua situazione finanziaria. Non spendere alla leggera quando non sai quanto denaro hai in tasca. Segno cancro. Il cancro non sta attraversando un periodo molto fortunato. Questo segno zodiacale sembra avere problemi in tutto ciò che fa, con ostacoli che portano a risultati non desiderati. Ci sono segnali di intrighi e interferenze che stanno mettendo a dura prova i tuoi sforzi. La situazione finanziaria del cancro oggi non è particolarmente favorevole, quindi non dovresti spendere in modo sconsiderato, anche se hai un buon reddito. Se continui a fare acquisti e sperperi denaro, potresti trovarti in una situazione di difficoltà finanziaria. Questo non significa che dovresti essere estremamente parsimonioso, ma dovresti considerare con attenzione ciò di cui hai veramente bisogno. Le relazioni amorose del cancro potrebbero non essere particolarmente favorevoli oggi, ma la tua relazione con la famiglia è calda e appagante. Credi nella tua famiglia come una solida base di supporto emotivo. Alla fine della giornata, se possibile, torna a casa, condividi un pasto e chatta con i tuoi cari. Questo ti aiuterà a dimenticare le preoccupazioni di una giornata difficile. Lavoro, oggi, fai attenzione a rivedere i tuoi piani e ad essere obiettivo nell'analizzare se stai andando nella giusta direzione. Se non lo sei, è un buon momento per correggere il percorso. Segno leone. Il leone avrà una giornata di lavoro relativamente leggera, ma comunque raccoglierà buoni risultati. La tua carriera sta entrando in una nuova fase, e potresti considerare di cambiare lavoro o sfidarti in nuovi settori che ti interessano. La luna è in aspetto quadrato con Giove, il che potrebbe portarti a esitare nell'esprimere le tue idee per paura di offendere gli altri. Tuttavia, cerca di non lasciare che questa paura limiti il tuo spirito. Lavoro, dedica la giornata a occuparti di questioni legate alla documentazione e agli archivi, poiché saranno utili per il tuo lavoro alla fine del mese e aiuteranno a evitare errori inutili. Amore. Le tue relazioni sentimentali potrebbero attraversare un periodo non così sereno, a causa di una mancanza di fiducia reciproca tra te e il tuo partner. Salute. La tua salute sembra essere un po' debole, potresti sentirti stanco al punto da perdere l'appetito. Presta attenzione alla tua salute, poiché potresti essere più suscettibile a malattie stagionali in questo periodo. Non sottovalutare la tua salute. Segno vergine. La vergine incontra una situazione complicata, e la fortuna sembra sfuggirle. Questo segno zodiacale deve fare attenzione alle parole e cercare di evitare situazioni in cui potrebbe parlare senza riflettere, senza tener conto delle conseguenze, mettendosi in pericolo. Lavoro. Inoltre, ci sono persone invidiose che aspettano solo una debolezza per diffondere false voci, mettendo a repentaglio la reputazione della vergine. Lavoro. Oggi non è strano se inizi a perdere la tua motivazione per gli obiettivi che hai fissato, poiché le emozioni sono cambiate molto rispetto al momento in cui li hai stabiliti. I piani della vergine stanno procedendo abbastanza bene, ma dovresti comunque fare attenzione a eventuali ostacoli dovuti agli effetti delle chiacchiere e del destino, potrebbe richiedere più tempo ed energie per riportare tutto sulla giusta strada. Superando queste sfide, la vergine imparerà preziose lezioni su come trattare con gli altri. Anche il settore sentimentale della vergine non è al meglio, poiché ti stai sforzando al massimo per la tua controparte, sacrificandoti per portare gioia e felicità nella loro vita. Tuttavia, sembra che la tua controparte non lo apprezzi e potrebbe persino dubitare del tuo vero interesse. Le parole gentili e l'attenzione saranno il modo migliore per risolvere questa situazione. Segno bilancia. Bilancia è in una posizione abbastanza favorevole e agevole, ma questa favorevolezza è solo a livello medio. Quindi, sul lavoro, procedi normalmente, fai le cose come al solito, senza pensare in modo eccessivo, altrimenti potresti incontrare ostacoli. Questo martedì è anche un giorno favorevole per i viaggi, gli spostamenti e i calcoli, quindi se hai intenzione di andare lontano, pianificare cambiamenti nel lavoro o nella residenza, questo è un buon momento per farlo. La situazione finanziaria è media. Se stai pianificando di guadagnare una grande somma di denaro, sarà difficile raggiungerla. Non dovresti farti prendere dalla tentazione immediata e dovresti valutare le tue capacità, non cercare di affrontare progetti ambiziosi che potrebbero causare danni. Risolvi le questioni finanziarie in modo diretto e veloce, evitando discussioni impulsiva. L'uso dell'empatia sarà una chiave per il successo. In generale, oggi è una giornata in cui bilancia un buon destino, ma solo a livello medio. In amore, la tua relazione è abbastanza armoniosa, tu e il tuo partner siete in sintonia su molte cose e mostrate comprensione reciproca per le questioni personali. Segno Scorpione. Scorpione, non lasciarti travolgere dalla fretta che potrebbe compromettere progetti importanti. A causa del lavoro impegnativo, potresti dover fare straordinari la sera, quindi è essenziale concentrarsi di più per risolvere le questioni rapidamente. La situazione finanziaria è favorevole, quindi è consigliabile mettere da parte una parte dei tuoi guadagni per situazioni di emergenza. Se continui a spendere come fai ora, potresti trovarlo insufficiente, indipendentemente da quanto guadagni. Potresti avere alcune preoccupazioni familiari, ma cerca di non stressarti troppo, solo rimanendo calmo potrai trovare la migliore soluzione. Non lasciare che il lavoro ti distraga troppo, cerca di dedicare più attenzione alla tua famiglia. Lavoro, avrai una giornata stressante sul lavoro. Molte sfide ti metteranno in difficoltà, e la fretta e la confusione non aiuteranno a risolverle. Amore, la situazione sentimentale non è delle migliori. Dovresti cercare un'opportunità per esprimere i tuoi sentimenti al tuo partner. Finanze, se dopo aver risparmiato una parte dei tuoi guadagni e saldato tutti i debiti, ti rimane ancora un po' di denaro, potresti esplorare opportunità di investimento per far crescere ulteriormente i tuoi risparmi. Segno sagittario Il sagittario dovrà affrontare molte sfide legate al comportamento, soprattutto con gli amici più stretti. Questo segno zodiacale dovrebbe essere paziente e evitare di cercare di dimostrare di sapere tutto, poiché ciò potrebbe rendere gli altri a disagio. Oggi, potresti incontrare problemi a causa di informazioni errate o malintesi nelle tue interazioni sociali. Alcune persone potrebbero reagire in modo molto forte alle tue parole. Assicurati di aver verificato tutto e sii attento quando esprimi le tue opinioni. Inoltre, ci sono segnali di conflitti nascenti nelle tue relazioni amorose, che potrebbero portare a fratture. Lavoro Oggi potresti sentire una certa pressione sul lavoro. Rilassati un po' e non metterti troppa pressione, evita di essere troppo rigoroso con te stesso. Amore La tua vita amorosa potrebbe non essere perfetta, ma sai sempre come trovare la gioia anche quando incontri difficoltà. Salute, la tua salute oggi non è al massimo. Dedica del tempo al riposo per poterti riprendere invece di forzare te stesso a lavorare ininterrottamente. Segno Capricorno Il Capricorno potrebbe incontrare alcune piccole complicazioni sul lavoro, ma niente di troppo grave. Questo segno zodiacale sarà in grado di superarle rapidamente se si concentra al massimo delle sue capacità. Più difficile è il compito, maggiore sarà la richiesta di competenze elevate e naturalmente le ricompense saranno molto degne di nota. Il Capricorno dovrebbe essere meticoloso e cauto, evitando di affrettarsi, poiché il successo lo attende di fronte. Per quanto riguarda l'amore, il fascino sarà in piena fioritura e i single potrebbero incontrare qualcuno che li fa innamorare. Le opportunità non aspettano mai nessuno e potrebbero persino cadere nelle mani di qualcun altro se non vengono afferrate rapidamente. Se hai già una storia d'amore, cerca di avvicinarti attivamente, senza esitazioni. L'onestà e la naturalezza ti aiuteranno a fare una buona impressione sulla persona amata. Salute La tua dieta quotidiana ha un notevole impatto sulla tua salute, quindi prestane attenzione. Dovresti limitare i cibi grassi e piccanti. Segno Acquario Questo segno zodiacale deve affrontare una situazione di tensione, che potrebbe rovinare tutti i piani precedentemente stabiliti. Il lavoro non va bene a causa di conflitti e disaccordi con i colleghi. La fortuna non è dalla parte dell'acquario oggi, quindi è meglio riflettere attentamente prima di intraprendere qualsiasi azione per evitare situazioni spiacevoli. Nelle questioni d'amore, l'acquario desidera sorprendere il partner, ma le cose non vanno come previsto, portando a momenti di rabbia e parole ferite. Questi momenti di mancanza di controllo possono causare crepe nelle relazioni. D'altra parte, la situazione finanziaria dell'acquario oggi è stabile, il che rappresenta un punto positivo in una giornata in cui le emozioni sentimentali non sono al massimo. Segno pesci I pesci non sperimentano molti cambiamenti. Il lavoro non sta producendo risultati, quindi la situazione finanziaria rimane stabile. Questo non è un momento favorevole, quindi è necessario essere attenti e riflettere attentamente prima di prendere decisioni importanti sugli investimenti. Inoltre, oggi i pesci potrebbero, a causa della loro impulsività, causare problemi e conflitti in molte relazioni sociali che altrimenti andavano bene. Questo segno zodiacale potrebbe non capire perché si comporta in modo così impulsivo. Tuttavia, l'amore per i pesci è dolce e il loro partner è sempre lì a sostenerli nelle sfide esterne. I pesci comprendono quanto sia importante il loro partner e desiderano avere qualcuno che li capisca e li accompagni per il resto della loro vita.